Perle avere arricciate nel momento in cui tu le metti, abbiamo detto col taglio orizzontale, abbiamo visto che se le taglie non era quello, dipende dalla dimensione del triangolo. Il nostro corso di un'esplosione, il nostro corso di un'esplosione. Non quello che fa il braccio. Non quello che fa il braccio. Il primo giù quando fa il braccio è quello che fa il braccio.